ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi ci sarà un altro video significativo di bullismo soltanto che però questo sarà online bullismo online guardate cosa ho creato oggi con la colla ho creato un iphone 11 pro max per le lol questo invece è un huawei p9 lite invece quello di ops baby è un iphone xr max no scherzo quello di ops baby è un iphone 8 non è plus iphone 8 comunque iniziamo penso che nessuno possa mai competere con il mio bellissimo iphone 11 pro max ora vado a chiamare king b ciao flower child guarda il mio telefono si bello l'iphone 11 è bellissimo ma chi può mai competere con il mio e sono caduta hai fatto bene a cadere perché il tuo è un semplice huawei p9 lite non va più di moda è vecchio buttalo io devo buttare il mio telefono l'ho aggiustato che lo butterò mai lo butterò mai non si è mai rotto si è rotto soltanto il volume bene soltanto il tasto scusate soltanto il tasto del volume si è rotto però poi l'ha aggiustato lì te ne potrei comprare uno nuovo no ma funziona alla perfezione ok però il tuo telefono è brutto e schifoso non ha tanta memoria perché la mia da 528 gigabyte il mio telefono la memoria da 528 gigabyte a me da 10 gigabyte hai visto quanto è poco sì però almeno funziona bene però il mio più bene quindi vattene via i bulli sono indifesi eh chi te l'ha detto io non mi abbasserò scusate scusate chi te l'ha detto io non mi abbasserò mai a tuo livello scivitaggine ora scrivi un commento hater ad un video di flower child non mi piace non mi piace togliti il canale fatto pubblicato non è giusto mi vuole elevare il canale ora io gli scriverò un commento hater levati tu il canale ora gli scriverò un commento hater levatelo tu basta tu sei solo indifeso io non mi abbasserò mai al tuo livello ok vado a tacharizzare un altro allora guarda il mio iphone com'è bello il mio è un iphone 11 ah bello bellissimo guarda il mio un iphone 8 vecchio vecchio troppo vecchio troppo in versione old no non mi piace deve essere solo l'iphone 11 l'iphone esistente ora scriverò un commento hater cosa io sono brutta ma no io scrivo canzoni io sono bellissima e poi so cantare benissimo io sono il brutto io scrivo canzoni io faccio il dj cosa ma non è giusto tu sei solo un bullo io non mi abbasserò mai al tuo livello in realtà sei indifeso dentro quindi capiscimi ok allora non farò più il bullo ragazzi voi non fatelo mai e poi mai anche i dislikes sono dai haters i dislikes sono più brutti dei like a parte che tu ti puoi dispiacere però sono più brutti perché sono fatti dai bulli e sono a un livello più basso di noi quindi capitemi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciatemi un like e attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche prima di salutarvi volevo dirvi se vi piaceva questo iphone 11 pro max che ho creato scusate comunque che ho creato se vi piace scrivetemelo qui sotto nei commenti comunque ragazzi vi volevo ricordare che tra sei giorni viene halloween e quindi il 31 ottobre se ho possibilità vi farò una bellissima sfilata di halloween con le lol o altrimenti dolcetto scherzetto scrivetemi la vostra opinione qui sotto nei commenti cosa volete tra sfilata o dolcetto scherzetto perché se facciamo il dolcetto scherzetto creerò anche delle piccole bustine di halloween e vi farò un tutorial prima o poi seguitemi anche su tiktok con il profilo di mary29 lol su instagram con il profilo di maria francesca bogazzi e su snapchat con il profilo di m-bogazzi19 ciao ciao ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.